Allora, niente, adesso io introduco Giuseppe Miccoli, che vedo, almeno non lo vedo più, ma ho visto che era qui, immagino sia ancora in linea, che è un cantautore che ha regalato, non so, ieri sera vi ho mandato un video, chi è nella nostra chat dei giornalisti della rete. Questo video è stato prodotto appunto da Giuseppe Miccoli e con la collaborazione di Guglielminetti, e appunto lascio la parola a Giuseppe, prego. Buongiorno a tutti, grazie per lo spazio, ringrazio Francesco Zanardi. Vorrei utilizzare questo tempo, insomma, per parlarvi di com'è nata questa canzone, che poi ho fatto ascoltare appunto a Francesco Zanardi, dell'opportunità appunto che mi ha dato Guglielminetti, con la sua etichetta discografica, di poterla realizzare. Da circa un anno ho iniziato a pubblicare le mie canzoni, pur facendo infatti un altro lavoro, non sono infatti un musicista professionista, ho inviato le canzoni a Guido Guglielminetti, da qui è nata una collaborazione con la sua etichetta discografica, che dà l'opportunità, diciamo, a questi, a degli artisti di potersi esprimere senza far ricorso ai talent, a tutto ciò che offre il mainstream della televisione italiana. Ovviamente di questo sono molto grato. Dopo, entrando nello specifico, dopo aver ascoltato la canzone Sopravvissuto, ci siamo messi a lavorarci su per farla nascere così come immagino sia stata ascoltata. Per farla breve, insomma, l'esigenza di far nascere questa canzone è nata dall'esigenza appunto di squarciare il velo dell'indifferenza. Vedendo che nella canzone italiana non c'era, non veniva, non è stato trattato molto probabilmente questo tema, oppure se è stato trattato è avvenuto in maniera superficiale, per quanto sono riuscito a accogliere io, insomma, da qui è nata l'esigenza di raccontare la storia appunto di Francesco Zanatti. Ho l'impressione che molti dolori, alcuni dolori, non si possono raccontare oppure non si vogliono far ascoltare. E da qui appunto è venuta questa, è nata la canzone. Il testo, insomma, è un mix, è un mix tra il linguaggio che ha utilizzato Zanardi nelle sue interviste, nei suoi articoli, è quello che poi ho inserito io, che è venuto fuori anche dall'ispirazione, insomma, dopo aver letto il libro Una donna di Sibilla Leramo, praticamente ho cercato di far rivivere lo stesso affanno, la stessa inquietudine, la stessa inquietudine, gli stessi abusi che aveva subito Sibilla e che venivano raccontati in quel libro, però senza, ovviamente non potevo non far emergere la reazione delle vittime che non si fermano, anzi affermano con forza la propria esistenza e il proprio dolore e quindi la condizione di sopravvissuto. Questo per introdurre quello che ho fatto e che poi ho cercato di condividere con Zanardi. Poi, come spesso si dice, le canzoni non vanno spiegate, sia se vanno ascoltate e basta, insomma. Mi fermerei qui, insomma. Va bene, grazie Giuseppe. No, della canzone a me è piaciuta subito, combinazione, io non so se l'avete sentita, somiglia moltissimo al rap, perché i punti, bene o male, sono quasi tutti. Giuseppe, poi, è la cosa più strana che non è neanche un sopravvissuto, quindi ha accolto, diciamo, quelle parole, quello che lui racconta e quello che coglie dall'esterno una persona sulla situazione dei preti pedofili in Italia. Vi dico, appena l'ho sentita la prima volta, mi è piaciuta subito, 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 perché, insomma, diceva tutto, c'era tutto, poi, vabbè, si è sviluppato il resto, in pochi giorni abbiamo montato in modo casalingo un video. Scusate. E niente, questa canzone, credo, rimarrà la canzone un po' delle vittime, un po', diciamo, un inno italiano dei sopravvissuti, perché li disegna molto bene e anche, appunto, quello che dicevi, Giuseppe, sì, in effetti nessuno in Italia ha investito nei minori. Se fate caso, noi abbiamo lanciato l'iniziativa della panchina per le vittime di pedofilia, non dei preti pedofili, di pedofilia in genere, non ce ne sono in Italia. Abbiamo lanciato l'iniziativa, adesso inizieremo poi a installarle nei vari comuni, se voi andate a vedere ci sono le panchine per il femminicidio, ci sono le panchine per l'amicizia, perché l'ho cercato su internet, c'è di tutto. Non c'è una panchina per tutela dei minori, non c'è una partita, che ne so, una nazionale cantanti per la tutela dei minori. Diciamo che è l'argomento dei minori, pure tutti abbiamo dei figli in Italia, però pare davvero un argomento quasi, non so se dire tabù o ignorato, ecco, preferisco la prima. Se tu mi tocchi, se tu mi prendi, padre non posso più sopportare, il contatto delle tue mani, è l'affanno del tuo respiro, padre non mi tenere, non mi toccare, lasciami stare. Quando ancora cercherai, e qualcun altro troverai, c'è sempre una preda che non ti aspetta, di cui negare la sofferenza, e se il perdono a volte si può tentare, resta un vuoto nella mente, che non si è più colmato, e no, non si può colmare. Anche se l'abito ti protegge, e sembri più forte della legge, il tuo animo è venduto, ma io sono sopravvissuto. Se tu mi tocchi, se tu mi prendi, non c'è niente che mi difenda, non c'è giustizia che mi protegga, la verità va dove conviene, sono stanco di soffrire, di andare, venire e sottostare. E se con quelle braccia, che hanno inflitto il male, mi tieni giù la faccia, e ho paura di naufragare, di trasformarmi in una carta a straccia, ero solo un ragazzino, tu il mio gozzino, e oggi non posso perdonare. Anche se non ti muo'i pentire, sicuro che poi potrai sparire, il tuo animo è perduto, ma io sono sopravvissuto. Anche se l'abito ti protegge, e sembri più forte della legge, il tuo animo è perduto, e io sono sopravvissuto. Anche se non ti muo'i pentire, anche se non ti muo'i pentire, e io sono sopravvissuto. Anche se non ti muo'i pentire,